Ok, allora, ministra, ci sono tutte? Dai giusto un sguardo, un'occhiata veloce, guarda un po' se manca qualcuna, ce lo dici, magari la fideliamo. Possiamo? Possiamo, allora, io suggerirei una cosa, la sposa faccia qualche passo indietro, le preteventi qualche passo in avanti, altrimenti a questa distanza, mi sa che dovremmo fare e avvicinarci le due, ok, va bene così, Luisa, mi raccomando, il mio viva lancia i tuoi che, Luisa, meno tre, meno due, meno una, Luisa, farsi sognare, vai, eccola, eccola qui, eccola qui, facciamo un grande applauso a quelli che si è accappallato e mi chieda la sposa, a chiedere anche a quale, più che altro, nel senso, sei single o fidanzata? Sei fidanzata single? Vabbè, comunque, la notizia è che tu entro il 2014 del bancone omale a giusta nocce, perché questa qui è una tradizione, se sei di novia, la voce musica spettacolo il maestro Michelangelo Tutturio dice che è tutto gratis, facciamo ancora una volta un grande applauso ai nostri sposi, li vogliamo qui al centro, sento qui, è una grande atmosfera, persone romantiche, c'era qualcuno che le voleva dedicare, un amore così grande, un amore così grande come quello che provano i nostri protagonisti, i nostri sposi, si balla tutti, vi vogliamo ancora una volta tutti quanti in pista, creiamo una grande atmosfera, poi ci scateniamo con le danze di manuale. Io non c'era come sei tu, oh, io non c'è sempre di più E' un'altra volta, io ti innazerei a non promesso parlare Io non c'era come sei tu, io non c'era come sei tu Io non c'era come sei tu, oh, io non c'era come sei tu E' un'altra volta, io ti invito ancora a dire Allora, grande atmosfera, vi voglio tutti i bambini via del centro nel terrazzo